Amici di Quarta Parede, buon pomeriggio, sono qui al Teatro Marconi, qui in questo bel salottino organizzato per questo primo incontro letterario, organizzato e ideato da Tiziana Sensi e questo primo incontro sarà con Paola Musa, che è qui vicino a me, buongiorno Paola, autrice di questo bellissimo libro che è L'ora meridiana, anche questa bella immagine di Modigliani, giusto? Esatto, il giovane operaio di Modigliani. Ecco, esatto. Allora, per Arcadia, editore, ed è il tuo terzo libro, giusto? Allora, in realtà questo è il mio quinto romanzo, sì, non so, penso che sia, in ogni romanzo ho cercato di sperimentare qualcosa, un linguaggio diverso, un argomento diverso. Quando sei partita dalla poesia, sei partita? Però sì, nasco come poetessa, ho anche pubblicato dei libri di poesia, però ecco, ultimamente mi sto dedicando soprattutto alla narrativa. Come c'è stata questa evoluzione, Paola, dalla poesia alla narrativa? Ma la poesia è una parte, diciamo, molto privata di me, quindi l'accedo con molta parsimonia, mentre la narrativa è anche un po' un mestiere, una sfida, insomma, una cosa più comunicativa. Esatto, esatto. E quindi è terapeutica per me la narrativa. Cioè, la poesia è terapeutica sotto un certo aspetto, però la narrativa lo è per un altro. Tra l'altro tu sei anche sceneggiatrice, ma sei anche parogliera, perché tu hai scritto anche per grandi musicisti. Sì, mi è capitato. Come il servono di Battista e Niki Nicolai, insomma. Sì, 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 mi è capitato. E grandi del jazz, insomma. Tra un po' esce anche un altro disco di un altro grande artista, a settembre. Possiamo dire? Sì, sì, Walter Ricci, con un bellissimo disco prodotto da mio marito Dario Rosciglione, ho composto alcuni brani. Grande contrabbassista, diciamolo. Insomma, sono soddisfatta perché... Della famiglia Rosciglione, insomma. Scrivere canzoni, paradossalmente, è la cosa più difficile, scrivere belle canzoni. E immagino, anche per una questione anche di metrica, no? Di metrica, di contenere una storia in pochi minuti. Insomma, mi piace, mi diverto a usare tutti i linguaggi della scrittura, insomma. Mi piace, mi diverte. Non ti poni i linguaggi, fondamentalmente. No, mi butto, mi butto. Credo che sia giusto la cosa, insomma. Allora, e quindi arriviamo allora a Meridiana, che in realtà è una sorta, diciamo, di manifesto della difficoltà del cambiamento di un uomo, no? Cioè, in questo caso lo identifichiamo con un quarantenne, che è un po' legato, un po' frenato dalla sua incapacità di scegliere, no, Paola? Sì, soprattutto è vittima di un vizio capitale, detto così, l'accidia, suona un po' astru, strano, perché è un po' un termine ormai desueto, ma in realtà l'accidia è un vizio che conosciamo tutti benissimo. Sì, però come dicevi te, diciamo, in termini letterali se ne parla poco, io so, ho riminiscenzo della Divina Commedia di Dante, no? Sì, se ne parla poco perché quel termine non è più usato, ma in realtà abbiamo una lunga serie di, sia nella narrativa che nel cinema, di personaggi acidiosi. Ci sono tutti i vitelloni, Fellini, Moravia, cioè Sorrentino, cioè Gepi Gambardella. Però facendo un po' studiato nella letteratura, anche Amleto era un acidioso, no? Amleto, sì, 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 esatto. Cioè, essere o non essere, insomma, questo già determinava. Sì, un acidioso che ha molto colto, però un acidioso, sì, sì. E tu fai un riferimento anche molto interessante, anche come maschera cinematografica, di Gepi Gambardella, no? Che è stato magnificamente dipinto dal grande Sorrentino con la grande bellezza. Sì, per me lui, ecco, nessuno l'ha mai inquadrato in questo modo, ma per me è proprio l'emblema dell'acidioso. Infatti, a un certo punto dichiara una cosa che mi ha molto colpito, io non solo volevo essere il padrone, più o meno, dice così, il padrone di tutte le feste, ma volevo avere anche il potere di distruggerle. Ah, ecco. E quindi questo è, ci sono queste due, questa ambivalenza dell'acidioso che di solito viene identificato con il pigro, con la persona pigra che si alza dal divano, ma in realtà l'acidioso è anche una persona irrecuieta, una persona che deve sempre riempire la sua vita, un po' insofferente, deve riempirla di qualche cosa. Beh, speriamo, no, siccome anch'io sono insofferente, spero di non essere acidioso. No, vabbè, lo speriamo tutti, però c'è sempre qualcosa, il divertimento di questo gioco letterario è, infatti l'ho scritto in prima persona, cioè Lorenzo, il personaggio principale, parla in prima persona, perché voleva un po' infastidire il lettore, spingerlo a domandarsi, ma io so, anch'io sono un po' così, e questo è stato un po' il gioco. Ecco, come mai ti è venuto in mente di scrivere un libro sull'acidia, no? Cioè, dove parte questa ispirazione? Ma è sempre difficile dire come inizia un progetto. Io ricordo di aver, non avevo inizialmente idea di scrivere di acidia, diciamo che ho scritto il primo capitolo raccontando un personaggio che viene lasciato dalla moglie, e che, insomma, questo personaggio non reagiva in alcun modo a questa situazione devastante, per cui ho cercato di capire, ma che personaggio è, che persona è questa che non ha, cioè accetta gli avvenimenti senza reagire in alcun modo. Una mancanza di volontà. Una mancanza di volontà. E da lì è nata l'idea di fare, proprio di scrivere un romanzo intero sulla acidia, con l'intenzione, ma qui è un altro par di mani, come si direbbe, di scrivere un romanzo dedicato a ogni vizio capitale, per cui... Perché è uno dei sette vizi capitali. Uno dei sette vizi capitali. Quindi ho iniziato con acidia, ho scritto superbia, non so adesso quando uscirà, però l'ho scritto, il problema è che ce ne sono altri cinque, insomma, vediamo se... Quindi le affronterai poi piano piano le sentirei tutti quanti. È dura, è dura, sì, perché è facile cadere magari nella retorica, insomma, bisogna costruire bene un mondo, no, intorno a un vizio, quale che sia. Tra l'altro questo libro, Paola, assume un po' i connotati di un'indagine poliziesca, giusto? Sì, perché appunto, se uno dice, ho scritto un libro sulla acidia, un lettore può spaventarsi, diciamo, che pizza, no? E invece no, no, invece, diciamo, il linguaggio è leggero, sì, il personaggio è molto autoironico, c'è appunto, ci sono sfumature di... mi è piaciuto l'idea di fare una commissione di generi, per cui in certi punti è un romanzo psicologico, in altri è noir, poliziesco. Quindi vado a scavare nei personaggi. Sì, sì, è così, è un esperimento. Comunque sempre su una base fondamentalmente di grande ironia, no? Sì, di grande ironia e anche di, insomma, di raccolta di tutta una serie di elementi letterari intorno a questo argomento che è la acidia. Ti volevo dire, ecco, in questo libro tu non prendi una posizione netta, no? Cioè non assurgi come a giudice fondamentalmente, no? Non lo faccio mai nei miei libri, cerco di mantenere sempre... Una certa indulgenza? Sì, una certa indulgenza, ma poi a giusta distanza tra, insomma, per quanto posso, non sono mai giudicante nei miei libri, non prendo posizioni ideologiche, perché mi piace indagare soprattutto attraverso la letteratura, secondo me è un buon mezzo per indagare l'ambiguità della condizione umana e quindi la doppiezza della condizione umana, altrimenti, insomma, uno prende posizione e sta facendo un'altra cosa, non sta facendo letteratura, sta facendo politica, io invece sono una narratrice, esatto, mi sembra giusto. Senti, ti presento due definizioni di acidia, io ho trovato, una è di Tommaso D'Aquino, che ha definito l'acidia come una tristezza opprimente che produce nell'animo dell'uomo una depressione tale per cui non si ha più voglia di fare nulla, e poi c'è quella di Boccaccio che dice secondo il quale l'acidia tiene gli uomini così inebriati e oscuri come il fumo tiene quelle parti alle quali gli si avvolge. Ecco, quale ti sembra più calzante? Parliamo comunque di due grandi. Sì, sicuramente Tommaso D'Aquino ha definito bene questa condizione di, quella che oggi chiameremo depressione, di spleen, sì, a Nui in francese, ci sono tantissime, quindi se andiamo a vedere, tu guardando, è una condizione della società contemporanea, però è una costante di tutta la cultura occidentale, tant'è vero che Galimberti ha definito l'acidia non un vizio, diciamo, un vizio soltanto personale, ma un vizio della società, del collettivo che da cui non puoi scappare in qualche modo, perché ti costringe a, cioè, ciascuno di noi avverte la perdita della magia della vita, dell'esistenza e quindi, insomma, chi è che non è un po' malinconico, un po' depresso, un po' ingrecuglietto? Assolutamente, poi di questi tempi, più che mai, visto, insomma, un'involuzione, se vogliamo, un po' ad ampio spettro, anche dal punto di vista culturale, no? Esatto. Ecco, tu hai citato Galimberti, io invece cito Sartre, perché Sartre appunto sosteneva che l'uomo esiste in quanto tale perché è chiamato a scegliere. Sì. È giusto? Sì, sì, però spesso non lo sa fare. Non lo sa fare. Cioè, si mette di all'auto, all'altra. Quindi diciamo, prima chiamiamo in questo limbo, no? Sì. Senti, ma adesso siamo, io dico sempre che siamo una società un po' liquida, no? Anche per colpa, se vogliamo, di questo mondo social. Tu pensi che questo abbia influito? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché un'altra condizione tipica dell'acidioso è l'incapacità di incuriosirsi, cioè di avere curiosità, di provare curiosità verso l'esterno e di incapacità di interagire veramente con gli altri e di creare relazioni profonde. E quindi, chiaramente, chi è che non vive questo solipsismo oggi? E poi c'è un'altra cosa interessante del social network che ci rende ancora più acidiosi, che ormai siamo talmente permeati e condizionati da queste interazioni. Certo, certo. Siamo sempre con il telefonino attaccato. E siamo là, scriviamo un post e vediamo quanti mi piace. Quello è un atteggiamento acidioso, perché l'acidioso non è soltanto una persona indolente, è anche una persona che... Non partecipa. Sì. Siamo tutti bravi a mettere dei like. L'acidioso, sai chi era nel Medioevo? Poi c'era proprio l'acidia, cioè nel Medioevo è stato... Era il monaco che invece di mettersi lì a pregare, a un certo punto, non so, si grattava oppure guardava fuori dalla finestra, era il recuieto. E noi cosa c'è? Riportato oggi, sì. Invece di meditare, di dedicarsi... Di sviluppare il pensiero. Di sviluppare, di dedicarsi completamente alla contemplazione, perché non puoi stare tutto il giorno a fare una vita contemplativa, ti distrai. E siamo anche noi così, in qualche modo, in una certa misura. Tu dici che in realtà c'è un parallelo con quel tipo di vita e questa qua del social. Non c'è perché adesso non abbiamo un corrispettivo religioso che, diciamo, interpreti questa condizione umana, cioè siamo una società secolarizzata e quindi diamo nomi diversi a questa condizione, però in effetti è come una mancanza di grazia in qualche modo. Senti, questo libro potrebbe essere una speranza, secondo te, di cambiare un po' i nostri punti di vista, anche di quantomeno simulare un risveglio. Ma può stimolare una riflessione. Lorenzo, posso dire, insomma, non voglio rivelare troppo, ma ho lasciato al lettore il compito di capire se è veramente cambiato o non è cambiato, dopo tutte le esperienze che ha vissuto. Diciamo che per l'accidioso è più difficile che per qualunque altro vizioso, diciamo così. Che quasi fosse ingabbiato. È ingabbiato, ma paradossalmente l'accidioso è anche una persona molto lucida che vede le cose così come sono e quindi è ingabbiato anche proprio dalla sua capacità di interpretare la realtà. Ok? C'è questa ambiguità e lì è stato tutto il paradosso. Che un po' l'ambiguità è un po' anche il, diciamo, un po' il segno di una decadenza, una decadenza contemporanea. Sì, esatto. Bene Paola, allora io rinnovo l'Ora Meridiana, scritto da Paola Musa, edizioni Arcadia Editore. Paola, io ti ringrazio, è stato molto piacevole, assolutamente. Invito tutti all'acquisto di questo libro che è già in eticola? Sì, 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 da diversi mesi. Perfetto, e allora andate a Liberia e comprate l'Ora Meridiana. Grazie Paola. Grazie a te Andrea.